Ciao a tutti, stiamo per tornare a casa. Stasera abbiamo frequentato l'appuntamento mensile alla community OSA, la community di imprenditori e imprenditrici a livello nazionale e quello che voglio condividere con voi è un potente strumento che vi permette di crescere e di elevare veramente il vostro business. Vi sto parlando della condivisione, cioè frequentare delle persone, degli ambienti che non fanno parte per forza del vostro business, quindi del vostro settore, bensì di altri, di raccontare le vostre sfide, di condividere quello che state vivendo nella vostra attività, nella vostra vita, proprio per avere delle idee, delle potenti informazioni per poter risolvere qualche problema che state vivendo o ampliare appunto la vostra zona di comfort e di business. Questo potere della condivisione va sviluppato con persone che sono vostri pari, quindi che fanno parte del vostro gruppo di pari, che hanno gli stessi valori, che semmai hanno raggiunto dei traguardi, dei risultati elevati e che semmai vorreste raggiungerli anche voi. Quindi frequentare delle persone per condividere, esprimersi, chiedere semmai dei suggerimenti, dei consigli, è un'arma potentissima per ampliare la nostra zona di comfort, le nostre conoscenze e i nostri strumenti per ottenere dei risultati. Da Milano è tutto, torno a casa dal mio bambino che stasera è stato con la Tata e ci vediamo alla prossima. Ciao!